Nella città che ospita una delle più grandi comunità italiane in Canada, la Festa della Repubblica nel suo 65esimo anniversario ha avuto un significato ricco di valori, così come è ricordato dal sindaco di Vaughan Maurizio Bevilacqua davanti al nuovo municipio. È un palazzo che essenzialmente è stato costruito anche dagli italiani ed è qui che noi celebriamo l'Italia ma anche celebriamo un po' della nostra grande comunità qui in Canada e qui a Vaughan, la città più italiana del Nord America. E nell'anno in cui si celebrano 150 anni dall'unificazione dell'Italia e nel mese di giugno dedicato in al patrimonio italiano è stato sottolineato il contributo dato dalla comunità italiana allo sviluppo del Canada. Si alza la bandiera così è un simbolo che per l'unificazione del 150esimo anno del nostro anniversario. Per noi italiani che siamo venuti dall'Italia qui... Sono contentissima di essere qui oggi a celebrare questo bellissimo evento dei 150 anni dell'Italia e devo dire che sono molto orgogliosa di essere figlia di italiani. Sottolinea che amassi!